Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti. È uscito un articolo davvero surreale nei giorni scorsi su l'inchiesta. L'inchiesta è un foglio digitale liberale atlantista specializzato nel diffondere informazioni a suffragio dell'ordine dominante della globalizzazione americano-centrica e liberal progressista. Ebbene, l'inchiesta nei giorni scorsi è uscita con un articolo in cui si spiegava che colonialismo e imperialismo sono due prerogative della Russia. Una Russia, quella di Putin, che continua dunque a essere colonialista e imperialista, come in fondo ci spiega l'inchiesta, sempre è stata. Qui credo che il livello di manipolazione, di ideologia, di amministrazione del consenso a beneficio dell'ordine dominante raggiungano il loro non plus ultra, il loro grado massimo. Si va di bene, secondo l'inchiesta imperialismo e colonialismo non sono prerogative dell'impero della civiltà dell'hamburger, che anzi magari si potrebbe elogiare come regno della libertà e della democrazia. No, per l'inchiesta è la Russia di Putin, ovviamente a essere colonialistica e imperialistica. Credo che con ciò davvero, come ricordavo poc'anzi, il grado di propaganda e di ideologia, nonché di manipolazione, abbia raggiunto vertici insuperati e forse anche insuperabili. Dico forse perché ormai siamo abituati a un contesto paradossale in cui ciò che ritenevamo essere il punto più basso viene puntualmente superato da un punto ancora più basso.